Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Curanada3 Oggi sono qui mercoledì per San Valentino quindi auguri a tutte le coppie E sono qui per farvi un video riguardante alle domande per il fuck you time Era da un po' che non lo facevo, forse è stato più di due anni che non faccio un fuck you time carino Quindi ragazzi giù nei commenti scrivetemi pure tutte le domande che vorreste farmi Ovviamente quelle serie ragazzi, evitate di scrivere stronzate Le 10 migliori le sceglierò e ovviamente ve le pubblicherò nel prossimo video Quando sarà magari riuscirò a montarlo bene, vi farò un video carino E poi ovviamente ci vediamo con la nuova serie che la chiamerò Raw2TCT TCT ragazzi sta per TCT quindi tutti contro tutti, anzi tutti contro tu, sì tutti contro Cur E niente ragazzi scrivetevi, commentate, mettete un bel mi piace Giù nella descrizione trovate il link se volete farmi una donazione Altrimenti se volete iscrivervi nella mia pagina Facebook E niente, bella